Ciao a tutti, inseguire un uomo uguale perderlo. In questo video ti spiego perché se tu insegui un uomo, se tu a tutti i costi vuoi cercare in modo ossessivo di conquistarlo, finirai inevitabilmente per perderlo. Prima però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Iscriviti al canale, attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. E se vorrai delle risposte precise alle tue domande puoi abbonarti al canale. Abbonandoti potrai ricevere delle risposte precise mirate alle tue domande, che mi farai in apposite live. Allora, e veniamo al tema, inseguire un uomo uguale perderlo. Allora, devi tenere presente alcuni fatti fondamentali. Il primo è che chi chiede perdente è solo chi sa offrire emozioni e vincente. Questo cosa significa? Significa che se tu chiedi, se tu insegui, se tu vuoi ossessivamente avere un uomo, non riuscirai ad avere, non riuscirai ad attrarlo. Lui non sarà per nessun motivo attratto da te. Perché l'attrazione si manifesta soltanto quando dall'altra parte si sente un vuoto, quando dall'altra parte si sente la necessità di dover fare della fatica per procurarsi una donna, ad esempio, per conquistare una donna. Questo vale in tutti gli ambiti della nostra vita. Se noi esaudiamo le esigenze di una persona in modo puntuale, non veniamo gratificati, cioè non diventiamo significativi. Diventa significativo che è in grado di stimolare dei desideri e poi non esaudirli. O esaudirli solo parzialmente. In questo modo la persona sente la spinta, lui, a inseguirti. Ecco quindi che si manifesta poi anche un secondo punto da non trascurare. Se tu insegui un uomo e quindi per lo stesso fatto che lo insegui l'altro non sarà così disponibile nei tuoi confronti, sarà piuttosto distaccato, allora cosa succede? Succede una cosa importante che tu inizierai a rimuginare. Inizierai a chiederti ma perché? Ma perché questa persona non si fa sentire? Ma come mai? Ma per quale motivo non fa nulla? Inizierai a rimuginare. Ecco, il rimuginare è la cosa peggiore che tu puoi fare. Perché quando inizierai a rimuginare inizierai intanto ad amplificarti i tuoi bisogni, intanto ad amplificare il tuo desiderio. E quindi inizierai ad amplificare il desiderio che è per quest'uomo. Cioè ti innamorerai ancora di più. E più ti innamorerai, più rimuginerai. Più rimuginerai, più ti innamorerai. E paradossalmente però quello che succede è che più tu ti innamori, più lui si sgancia. Più lui non ne vuol sapere di avere a che fare con te. Non ne vorrà sapere. E quindi finirà per staccarsi del tutto. E finirai inesorabilmente, ma inevitabilmente, per perderlo. Questo purtroppo si manifesta, questo purtroppo si manifesta ogni volta che tu dai un eccessivo possesso. Tieni presente che nella seduzione c'è una regola, il desiderio deve essere sempre un po' maggiore del possesso. È un po' come diciamo a pranzo, no? Se uno si alza da tavola con ancora un po' di fame, beh, diciamo che sarà sempre attratto dal cibo, da un certo punto di vista. Se ti alzi da tavola che hai mangiato tanto, quasi che ti viene da vomitare, beh, il cibo in quel momento lì non ti interessa più. Poi ovviamente nel cibo c'è una rigenerazione perché noi comunque consumiamo le energie per vivere. Ma nelle relazioni sentimentali questa rigenerazione non c'è e quindi questa persona continuerà a mantenere nei tuoi confronti un rifiuto. Ora, quindi perché nasce tutto questo? Uno si pone la domanda. Ma perché io ho queste situazioni? Perché vivo in questo modo? Ebbè, la risposta tutto sommato a questa domanda è una risposta semplice. E la risposta è la seguente. Tu vivi tutto questo per un motivo molto semplice. E il motivo qual è? Il motivo è che... Il motivo è che... Sei bisognoso. E quindi proietti il tuo bisogno sull'altra persona. Eh, sembra un qualcosa di strano, di difficile consapevolezza, ma in realtà è proprio così. Proietti il tuo bisogno sull'altra persona. E l'altra persona diventa semplicemente uno specchio. E quindi tu ti innamori proprio perché hai un bisogno intrinseco dentro. Poi è ovvio, perché scegli una persona e non scegli un'altra? La scegli quella che non soddisferà il tuo bisogno. In questo modo ti nutrirà di emozioni. Perché la parte emotiva andrà a scegliersi proprio quella persona che ti amplificherà il tuo bisogno senza soddisfarlo, senza dargli giusta soddisfazione. Questo è quello che succede, questi meccanismi. Quindi come si esce fuori da queste situazioni? Come puoi uscire fuori da una situazione in cui il bisogno ti, in qualche modo, ti distrugge fondamentalmente? Beh, ci sono diverse modalità. La prima è fare degli atti di coraggio, cioè far capire alla parte emotiva che posso dargli emozioni molto diverse. Come faccio a fare un atto di coraggio? Beh, proprio quello lì di cui penso di avere bisogno, penso di avere necessità, deliberatamente lo manda a cagare, deliberatamente non gli risponde ai messaggi, deliberatamente non lo prendi in considerazione. Ecco, fare questo sembra una cosa strana, ma invece dà un'emozione molto forte, ma un'emozione diversa. Cioè la tua parte emotiva inizia a nutrirsi di orgoglio, inizia a nutrirsi del bene e non si nutre più del male. E questo devi tenere presente che è un cambiamento fantastico, perché tu improvvisamente riuscirai a nutrirti del positivo e non più del negativo. Ecco, quindi l'atto di coraggio è una delle cose fondamentali che tu puoi fare per ottenere questi risultati. Quindi ogni volta che una persona poi si comporta male nei tuoi confronti, devi smettere di giustificare il torto. Si comporta male, è colpa sua che si comporta male. Quindi in questo modo metti un'energia calibrante, cioè passi dal sentimento d'amore al risentimento d'amore. Quindi è l'energia che toglie, diciamo, potere al simbolo che hai creato. E quindi il passaggio dal giustificare ogni cosa a smettere di giustificare quello che ti consente di fare questo salto di qualità. E vivere bene, quindi smettere di inseguire un uomo, perché, come ti ho detto prima, inseguire un uomo equivale a perderlo. Bene, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Termasco. Iscriviti al canale attivando la campanella, così riceverai le notifiche dei nuovi video. E se vuoi delle risposte mirate alle tue domande, abbonati al canale. Abbonandoti al canale ti darò in apposite live delle risposte mirate alle tue domande. Ciao a tutti!